hallo questa sarà una morning routine prima di tutto mi metto gli occhiali perché non li vedo sto cercando di fare una specie di morning routine bar bathroom tour perché mi trovo per due giorni in Germania e pensavo che sarebbe stato carino ovviamente come potete vedere sono in questo pulino molto figo e la prima cosa che faccio la mattina è andare su internet scusate però e di solito lo faccio con l'ipad però sto registrando con l'ipad quindi non posso comunque ho il cellulare o l'ipad, ho messager, whatsapp, messager, facebook, twitter e soprattutto instagram e tumblr e via dicendo, snapchat quindi questa è la camera da cui stavo a prendere, scusate per i vetri ciao 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 ecco finita la colazione come potete vedere l'appartamento ora è finito perché l'appartamento comunque è piccolino e niente non vi posso fare vedere l'intero morning routine perché adesso dobbiamo uscire e andiamo in un posto comunque spero vi sia piaciuto ciao ciao ciao